Salve amici del Centrometro Italiano, tempo stabile sull'Italia ad eccezione di qualche fenomeno pomeridiano. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per giovedì 23 giugno. Cieli sereni al più poco nuvolosi al mattino su tutta la penisola e al pomeriggio ancora a tempo stabile, con nuvolosità alta in transito alternata ad ampi spazi di sereno. Locali acquazzoni o temporali possibili sulle Alpi. In serata e notata residui e precipitazioni su tutti i settori alpini ma in esaurimento e sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime e massime stabili o in ulteriore lieve aumento. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centrometro Italiano. Grazie a tutti.